La bretella forse poteva servire 40 anni fa, quando non c'era il collegamento, diciamo da Campogagliano venire a Sassuolo. Però in questi anni è stata fatta, abbiamo già una strada che collega Modena con Sassuolo. In più ne abbiamo un'altra che da Rubiera va a Castellarano, che due anni fa circa è stata allargata, quindi è diventata camionabile. Poi bisogna considerare un altro fatto, la produzione di ceramica è dimensata negli ultimi anni, quindi le strade ci sono, la produzione è dimensata, quindi c'è meno traffico, poi bisogna andare a vedere l'impatto ambientale. La cosa più importante è che passa sopra alle falde acquifere di Marsaglia, quindi potrebbe andarle a compromettere. L'acqua di Marsaglia serve per gran parte della città di Modena, che va dentro negli acquedotti, e nella bassa modenese. Un'altra cosa, Osi del Colombarone, se passa l'autostrada, passa sopra l'Osi del Colombarone, quindi o l'autostrada o l'Oesi. Noi cercheremo di fare le cose nella legalità. Abbiamo già scritto, abbiamo fatto già vari comunicati, stampa, abbiamo mandato anche comunicati a organi competenti. Noi cerchiamo di fare tutto nella legalità. Sono loro che stanno facendo le cose illegali.